L'agenda Donne Pace e Sicurezza da 20 anni a questa parte è presente nella politica internazionale e investe la società civile e i governi di una responsabilità nuova rispetto alle donne rispetto alla loro partecipazione attiva nella costruzione della pace e nella gestione delle situazioni di emergenza umanitaria e di conflitto Oggi auspichiamo che queste politiche pubbliche che da questa agenda debbono derivare trovino un'attenzione diversa da parte dei governi La società civile sta lavorando tantissimo a che la condizione delle donne nelle situazioni di conflitto armato migliori e i governi tengano conto delle dinamiche propositive di cui le donne sono portatrici Nel rispetto dei diritti umani delle donne chiediamo che questa agenda trovi un livello di implementazione più reale La risoluzione 1325 ha ancora molto da regalarci anche per il futuro non solo per quanto riguarda i suoi contenuti specifici ma per lo sviluppo dell'azione internazionale nel mantenimento e la promozione della pace e sicurezza anche più in generale La risoluzione infatti ha con sé promosso due aspetti cruciali, importanti che sono l'azione integrata tra più settori con le 3P La risoluzione 1325 integra la protezione e quindi gli aspetti più umanitari la promozione, quindi i diritti umani e la gestione dei conflitti La pace con un'ottica molto visionaria e molto attuale D'altra parte crea delle relazioni tra vari stakeholders a livello istituzionale, comprese le forze armate a livello anche non governativo e anche varie entità che si trovano a collaborare, a confrontarsi sia per l'attuazione dell'agenda internazionale che dei piani d'azione nazionali I NAOI ci sono delle associazioni che sono nate soprattutto sul tema di genere che 25 anni fa, dopo la conferenza di Pechino hanno lavorato moltissimo su programmi di empowerment di genere nel senso più complessivo che non è solamente quello economico ma è anche quello sociale e quello del ruolo della donna anche nei processi di pace Attualmente sono nell'international board responsabile dell'Europa 20 anni fa la nostra organizzazione ha contribuito molto a formulare questa risoluzione Donne, pace e sicurezza L'investimento importante si potrebbe fare sui giovani Credo che queste tre parole, donne, pace e sicurezza potrebbero trovare un'ulteriore sfida laddove si puntasse sui giovani Sui giovani perché hanno bisogno di capire, vivere, che cosa significa la parola pace e i giovani perché chiaramente il tema del genere delle donne è ancora più sentito e ancora più importante Conflitti esistono in tutto il mondo Il ruolo di donne della soluzione dei conflitti non è veramente significativa ancora come dovrebbe essere Vediamo anche il contrario che le donne PISPIL che si impegnano per diritti umani in un senso largo anche protezione dell'ambiente eccetera sono sempre più minaggiate Il mondo che rappresento, il mondo che incrocia incontro si augura che ci sia più spazio per la componente giovanile Noi riteniamo che il peace building non sia il peace keeping e tutte le attività collegate non siano solamente come dire opzione per la difesa intesa come difesa militare ma che la difesa civile sia essenziale e quindi che ci sia più spazio all'interno delle politiche dei paesi e degli impegni come questo per i giovani e per i giovani attivi sui temi della pace Direi il monitoraggio, credo che al punto in cui il piano è arrivato di maturazione sia importante anche focalizzare l'attenzione sul monitoraggio di quello che si fa e dei risultati che si portano a casa I corpi civili di pace sono un'esperienza straordinaria e hanno questa potenzialità enorme di fare rete quindi il valore aggiunto che credo questi progetti attraverso i ragazzi che appunto diventano operatori di pace sia nel costruire comunità nelle comunità, di fare reti tra organizzazioni quindi di mettere in collegamento anche soggetti che magari in paesi complessi ordinariamente non hanno punti di contatto e che invece si aggredono intorno ai colpi civili di pace questo credo che sia un valore aggiunto perché potremmo mettere insieme chi ha come mission la pace chi si occupa di approcci di genere, chi appunto lavora sulle donne e sulla sicurezza Tutte le sezioni della Wilfme ma anche molte organizzazioni, gruppi nella società civile chiedono la firma del Nuclear Ban Treaty Perché le armi nucleari sono veramente una cosa per me è anche una trasformazione mentale che è necessaria perché trovo che non siamo abbastanza coscienti della prevenzione, dell'importanza della prevenzione dei conflitti e questo parte da un uso anche di una consumazione diversa tutto lo sviluppo sostenibile, cambiamento climatico dipende da questo e i giovani capiscono questo Sicuramente quella dei corpi civili con particolare attenzione ovviamente alle tematiche, alle questioni di genere giovani che rientrano da quell'esperienza sono sicuramente giovani portatori di pace Le ragazze sono molto importanti dentro questo aspetto perché moltissime sono le giovani che vogliono aderire ai programmi di volontariato all'estero molto umanitario ma anche ai corpi civili di pace Le sfide per il futuro non mancano, riguardano sicuramente un po' il fatto che essendo così legata alle vicende della pace e della sicurezza risente delle eventuali criticità della gestione più in generale che la comunità internazionale usa per gestire i conflitti D'altra parte è anche un po' vittima del suo stesso successo perché ad oggi abbiamo ormai più di 10 risoluzioni quindi c'è stata una certa proliferazione di strumenti normativi e questo ha messo un po' in ombra il focus che invece era prioritario sull'implementazione quindi pro futuro penso che sia molto importante rafforzare il sistema di monitoraggio imparare che cosa è andato bene, che cosa è andato meno bene, cosa dobbiamo ancora implementare e su questo mi permetto di lasciare un messaggio chiaro e preciso riguardo alla prevenzione dei conflitti che era nell'intenzione di chi ha voluto l'agenda 20 anni fa e che è ancora uno degli aspetti, oltre agli altri, ancora molto da realizzare con serietà, con continuità e promuovendo una solida cultura di pace La risoluzione 1325 ha avuto il merito di legittimare l'azione delle donne in alcuni processi di pace Tuttavia il ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti rimane ancora marginale soprattutto nelle decisioni di alto livello sulla pace e la sicurezza Urge promuovere e valorizzare la partecipazione delle donne ai processi di pace con azioni concrete e scelte politiche coraggiose Gli stati non hanno più alibi Fare scelte politiche coraggiose significa superare la struttura statocentrica belligena del sistema della politica internazionale che continua ad essere governata da un mondo di uomini un mondo di potere e conflitto nel quale la pratica della guerra è l'attività principale Fare scelte coraggiosi significa, all'interno di una prospettiva femminile considerare il potere come empowerment la sicurezza come la capacità di uno Stato di promuovere e garantire lo sviluppo umano e la sicurezza umana le scienze sociali non come scienze neutrali ma come scienze impregnate di valori umani La risoluzione 1325 ci dice che l'obiettivo deve essere quello di un nuovo ordine economico e politico internazionale basato sui diritti umani internazionalmente riconosciuti sui principi democratici dello Stato di diritto sulla parità di genere, sulla trasformazione non violenta dei conflitti Un ordine internazionale democratico agito dalle organizzazioni della società civile cioè da attori esponenziali all'interno del paradigma umanocentrico delle relazioni internazionali attori nuovi, altri rispetto agli Stati attori costitutivamente sensibili a valori di etica universale e irenici attori maggio Grazie a tutti.